top workout ad altissima intensità tre sessioni la prima dove alzeremo gradualmente l'intensità nella seconda combineremo addome e lavoro cardiovascolare nell'ultima porteremo l'intensità al massimo buon allenamento iniziamo mani parallelo a pavimento pugni chiusi e fai delle piccole rotazioni delle spalle in avanti 5 4 3 2 1 cambia la rotazione pugni chiusi e fai delle rotazioni indietro l'ampiezza della rotazione è minima 5 4 3 2 1 cambia gambe divaricate e scendi fino al ginocchio lentamente 5 4 3 2 1 ok ci conduzione braccia avanti fai dei movimenti ampi e controllati 5 4 3 2 1 cambia ci conduzione braccia indietro sciogli bene le spalle questo allenamento è molto intenso 5 4 3 2 1 cambio braccia lungo i fianchi destra su e sinistra giù poi cambi e continui movimento lento 5 4 3 2 1 cambio a fondo laterale e mano a piede opposto non sbilanciarti in avanti in avanti in avanti inizia a prendere un buon ritmo 5 4 3 2 1 skip alto vai porta le ginocchia fino alla linea del bacino il movimento è costante non andare veloce usa le mani come riferimento 5 4 3 2 1 step touch tiene un ritmo costante ancora qualche esercizio e iniziamo 5 4 3 2 1 ok calciata saltellata saltella portando i talloni al gluteo ritmo costante e sostenuto 5 4 3 2 1 ancora step touch 20 secondi aumenta l'intensità 5 4 3 2 1 cambio distensione braccia gambe destra spingi bene sulla gamba destra per tornare in posizione 5 4 3 2 1 cambio lato verso sinistra a fondo laterale mano sopra la testa il passaro lato laterale è ampio 5 4 3 2 1 slanci indietro inizia con la gamba sinistra piega il corpo leggermente in avanti cerca di percepire la contrazione del gluteo 5 4 3 2 1 cambia gamba incline il corpo leggermente in avanti Mani nei fianchi o braccia a 45 gradi verso il basso per bilanciare l'equilibrio. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, gambe a larghezza a bacino e apri lateralmente la gamba sinistra. 10 secondi e cambiamo gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia gamba. Apri lateralmente la gamba destra. Non andare veloce. 5, 4, 3, 2, 1. Corsa lenta sul posto. 20 secondi. Passo leggero. Ci stiamo ancora riscaldando. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Affondo laterale a destra. Tieni le mani avanti per migliorare la stabilità. Spingi sulla gamba destra per tornare in posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio lato. Ora vai verso sinistra. Fai il passo ampio e scendi con il bacino. Il piede è a 45 gradi. Il ginocchio non supera la punta del piede. 5, 4, 3, 2, 1. Corsa sul posto. 20 secondi. Preparati per lo slancio in avanti con la gamba sinistra. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Ora slancia la gamba sinistra. Movimento controllato e preciso. Cerca di toccare la punta del piede con la mano. Ritmo costante. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia gamba. Usa la destra. Chiudi il corpo quando porti la mano al piede. Ci siamo quasi. Il riscaldamento è quasi terminato. 5, 4, 3, 2, 1. Corsa sul posto. 20 secondi di corsa lenta. Non spendere troppo energie. Dopo ti serviranno tutte. 5, 4, 3, 2, 1. Via! Iniziamo per gradi. Solo squat. 30 secondi. Tieni un buon ritmo. Ginocchio che non supera la punta del piede e bacino arretrato. Cerca di scendere con il bacino fino alla linea del ginocchio. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Affondo all'indietro. Segui il ritmo del video e scarichi il peso del corpo al centro del movimento. Mantieni gli addominali contratti. Il ginocchio non supera la punta del piede. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Corsa lenta. Preparati per 3 jumping jack e squat. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 3 jumping jack e giù in squat. Ritmo sostenuto e squat preciso. Completa la posizione di squat prima di risalire. Respira sempre durante l'esercizio. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Gambe divaricate e passo incrociato all'indietro. Fai un movimento ampio e controllato. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Corsa lenta sul posto. 5, 4, 3, 2, 1. Preparati per squat e doppio slancio. 5, 4, 3, 2, 1. Via! Doppio calcio e squat. Movimenti puliti. Calcio, 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 squat. Quando scendi bacino arretrato e talloni ben appoggiati a terra. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Giù a terra. Plank in corsa. Braccia perpendicolare al pavimento e addominali contratti. Vai! Non mollare. Abbiamo appena iniziato. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 20 secondi di pausa attiva con un po' di corsa lenta sul posto. Preparati per due jumping jack e camminata su plank. 5, 4, 3, 2, 1. Via! Due jumping jack e camminata su plank. Jumping jack veloci e camminata su plank controllata. Completa correttamente la posizione di plank prima di risalire. 5, 4, 3, 2, 1. Plank e salto. Sumo squat. Mani a terra. Plank. Torni e salti. Massima concentrazione. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Jumping jack. 30 secondi. Sguardo fisso in avanti e schiena dritta. Non restare in apnea. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Recuperiamo. Corsa lenta. Non fermarti. Non fermarti. Preparati per gamba destra dietro e ginocchio sinistro su. 5, 4, 3, 2, 1. Ora porta la gamba destra indietro, mano destra a terra e sali con il ginocchio sinistro al petto. Movimento costante e preciso. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio a gamba. Stesso esercizio dall'altro lato. Gamba sinistra indietro. Mano a terra e ginocchio destro su. Movimento fluido. Preparati per plank e salto. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Secondo e ultimo plank e salto. Nel plank non scendere troppo con il bacino. Addominali sempre contratti. Il salto in alto deve essere esplosivo. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Corsa lenta. Abbiamo quasi terminato il primo blocco. Preparati per le plank in corsa. 5, 4, 3, 2, 1. Giù in plank e simula la corsa. Cerca di non salire troppo con il bacino. Braccia tese e perpendicolari al pavimento. Tieni duro. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Su in piedi. Pugni veloci. Inizia piano, poi accelera in movimento. Gomiti stretti e pugni lineari ad altezzamento. Altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ora saltella sulla posizione di mezzo squat. Un salto mezzo squat e un salto torna a gambe unite. Tieni il bacino basso. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, recupera. Step touch. 30 secondi, poi una breve pausa di 20 secondi. Non fermarti. Termina l'esercizio. È importante. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Prepara il tappetino per una sessione di lavoro combinato. In piedi e a terra. 5, 4, 3, 2, 1. Riprendiamo. Addominali in tre tempi. Non sforzare il collo. Alza le spalle. Contrai l'addome e spingi. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera e preparati per il plank in corsa. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Simula la corsa. Bacino basso. Le braccia sono tese e perpendicolari al pavimento. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Sali in mezzo squat. Pugni veloci. Inizia piano, puoi accelere in movimento. Gomiti stretti e pugni lineari ad altezzamento. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ora ripetiamo gli addominali. 3, 2, 1. Vai. Schiena a terra. Addominali in tre tempi. Schiena ben appoggiata e pensa di spingere l'ombelico verso il basso. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera e sale in piedi. 3, 2, 1. Via. Posizione di mezzo squat e pugni veloci. Ora sono 40 secondi. Inizia piano, puoi velocizza in movimento. Gomiti stretti e pugni lineari ad altezzamento. Se sei stanca, rallenta per un po' la velocità. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora a terra. Plank in corsa. Bacino basso e le braccia tese. Intensità sostenuta e costante. Respira sempre durante la corsa. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Preparati per gli addominali in tre tempi. 3, 2, 1. Via. Addominali in tre tempi. Sollevi leggermente le spalle. Contrai l'addome. Aumenti la spinta sul movimento. Fuori l'aria quando sali. Vai. Altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Dai, in piedi. Pugni lineari ad altezzamento e gomiti stretti. Parti lenta. Sincronizza il movimento e accelera. Dai, dai, metticela tutta. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, atterra. Addominali in bicicletta e mani sotto le cosce. Dai ritmo al movimento. Addome sempre contratto. 10 secondi e recuperiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Rimaniamo a terra. 3, 2, 1. Addominali in tre tempi. Schiena ben appoggiata e pensa di spingere l'ombelico a terra. Sollevi le spalle. Contrai l'addome e spingi. Fuori l'aria quando sali. Concentrati sui tre movimenti. 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Su in piedi e pugni veloci. Contrai l'addome e cerca di aumentare gradualmente la velocità. Ancora 20 secondi. Dai, non mollare. 5, 4, 3, 2, 1. Ora giù in plank e porta le ginocchia ai gomiti. Vai. Ginocchio destro al gomito destro e ginocchio sinistro al gomito sinistro. Ritmo. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. 20 secondi. Ora recuperiamo un attimo e ripetiamo tutto il blocco. Preparati per gli addominali in tre tempi. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Addominali in tre tempi. Schiena ben appoggiata e pensa di spingere l'ombelico verso il basso. Separa bene i tre movimenti. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Solo 10 secondi. Preparati per i plank in corsa. 3, 2, 1. Via. Giù in plank e simula una corsa. Le braccia sono tese e perpendicolari a pavimento. Non salire troppo con il bacino durante la corsa. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Sali. Posizione di mezzo squat e pugni veloci. Inizia piano per accelere il movimento. Gomiti stretti e pugni lineari all'altezzamento. Mi raccomando, rispira anche durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera e scendi a terra. 3, 2, 1. Vai. Addominali in tre tempi. Schiena ben appoggiata. Pensa di spingere l'ombelico a terra. Ultimi 15 secondi. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera e sale in piedi. 3, 2, 1. Via. Posizione di mezzo squat e pugni veloci. Accelere il movimento al massimo. Gomiti stretti e pugni lineari all'altezzamento. 15 secondi. 15 secondi. 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ultimo plank in corsa. Scendi in posizione e usa tutte le energie. Mantieni il bacino basso e le braccia tese. respira costantemente durante la corsa. Dai, non mollare. Altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Abbiamo quasi terminato questo blocco. 3, 2, 1. Penultimi addominali in tre tempi. 6 esercizi al termine. Concentrali. Falli bene. Solleva le spalle. Contrai l'addome e spingi. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora pugni veloci. Vai. 30 secondi. Non mollare. Posizione di mezzo squat. Addome contratto e massima concentrazione. 5, 4, 3, 2, 1. Scendi addominali in bicicletta e mani sotto le cosce. 4 esercizi rimasti. 5, 4, 3, 2, 1. Dai ritmo al movimento. Addome sempre contratto. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Preparati per gli ultimi addominali in tre tempi. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Ultima sessione di addominali in tre tempi. Non irrigidire il collo. Concentra lo sforzo sull'addome. Solleva le spalle. Contrai l'addome e spingi. Mi raccomando. Fuori l'aria quando sali. 6, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Ultimi pugni veloci. Due esercizi al termine. Dai. Sono gli ultimi. Dai il massimo. Aumenta la velocità e mantieni i gomiti stretti. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Ultimo. Giù in plank e porta le ginocchia ai gomiti. Vai. Ginocchio destro al gomito destro. E ginocchio sinistro al gomito sinistro. Resisti. Non mollare. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Pausa. Raccogli tutte le energie rimaste. Ora facciamo un blocco ad alta intensità. Iniziamo con la torsione del tronco per il... 5, 4, 3, 2, 1. Via. Mani dietro alla testa e ginocchio verso il gomito opposto. Fuori l'aria quando vai in chiusura. Massima concentrazione e controllo del movimento di chiusura. 5, 4, 3, 2, 1. Salta. Jumping jack. Atterra bene sull'avampiede e non sbilanciarti. I piedi arrivano leggermente oltre il bacino. Respira mentre salti. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Jumping jack e distensione frontale delle braccia. Un salto braccia laterali. Un salto braccia frontali. Massima coordinazione e respira. Stabilità, intensità e concentrazione. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Solo jumping jack. 30 secondi. Salta sull'avampiede e sincronizza braccia e gambe. Respira durante l'esecuzione dell'esercizio. Tieni duro. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Slancia la gamba sinistra. Facciamo scendere il battito cardiaco. Movimento controllato e preciso. Tocca i piedi con la mano. Fuori l'aria e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Jumping jack. Richiamiamo subito lo sforzo. Salta sull'avampiede e sincronizza braccia e gambe. Respira durante l'esecuzione dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ora recuperiamo 40 secondi con lo step touch. Non andare veloce e respira profondamente. Aiuta la respirazione con il movimento di apertura delle braccia. Ispira dal naso ed espira dalla bocca. Dai, che siamo quasi alla fine. Mancano pochi esercizi. Massima concentrazione. 5, 4, 3, 2, 1. Slanci, via. Gamba destra in avanti. Cerca di toccare la punta dei piedi con la mano. Movimento preciso. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera e preparati per il jump su mezzo squat. 3, 2, 1. Via. Saltella sulla posizione di mezzo squat. Controlla il baricentro e non avanzare. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Preparati per il salto e sumo squat. 3, 2, 1. Via. Salto e sumo squat con mano a terra. Fai bene sumo squat. Atterra delicatamente sull'avampiede e scendi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Preparati per il jump su mezzo squat. 3, 2, 1. Ripeti il jump su mezzo squat. Atterra sull'avampiede. Poi appoggia delicatamente i talloni. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ora rallentiamo. 3, 2, 1. Ok. Incrocio braccia-gambe. Mano verso il piede opposto. Movimento lento. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Ora skip alto. Porta le ginocchia sulla linea dell'ombelico. Usa le mani come riferimento. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. 20 secondi di calciata lenta ai gluti. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Slancio frontale alternato. Mano al piede opposto. Chiudi il corpo quando fai lo slancio. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora incrocio braccia-gambe. Movimento lento e controllato. Mano verso il piede opposto. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora skip alto. 20 secondi. Porta le ginocchia sulla linea dell'ombelico. Usa le mani come riferimento. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Calciata lenta ai gluti. Recupera bene. Non abbiamo ancora finito. Ma fai bene il movimento. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Slancio frontale alternato. Cerca di toccare il piede con la mano. Chiudi il corpo quando fai lo slancio. 5, 4, 3, 2, 1. Spostamento laterale verso destra. Movimento preciso e controllato. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Ora dall'altro lato. Spingi bene con la gamba per tornare in posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Mano dietro la testa e ginocchio verso il gomito opposto. Fuori l'aria quando vai in chiusura. Preparati per lo sprint finale. Pronta? 5, 4, 3, 2, 1. Via. Jumping check. 30 secondi. Tieni le braccia leggermente piegate. In questo blocco usa tutte le energie rimaste. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Jump con braccia laterali e jump con braccia frontali. Alza il ritmo. Siamo quasi alla fine. Coordina bene i due movimenti. 5, 4, 3, 2, 1. Solo jumping check. 30 secondi. La larghezza delle gambe supera leggermente la larghezza delle spalle. Respira durante l'esercizio. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Salto e sumo squat con mano a terra. Fai bene sumo squat. Atterra delicatamente sull'avampiede e scendi. Dai, dai, dai. Mancano 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ultimo jumping check. 30 secondi. Salta sull'avampiede e sincronizza braccia e gambe. Dai, che dopo recuperiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Step touch. 40 secondi. Recupera le forze, ma non fermare il movimento. Respira profondamente. 20 secondi. Preparati per gli ultimissimi esercizi. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Salto e sumo squat con mano a terra. Atterra delicatamente sull'avampiede e scendi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera e preparati per il jump su mezzo squat. 5, 4, 3, 2, 1. Sattella sulla posizione di mezzo squat. Controlla il baricentro e non avanzare. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ultimi due. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Salto e sumo squat con mano a terra. Completa la posizione di sumo squat prima di risalire. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ultimo esercizio. 3, 2, 1. Ultimo. Salto e sumo squat con mano a terra. Concentrazione massima. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Facciamo scendere piano piano il cuore. 3, 2, 1. Step touch. Movimento lento e respira profondamente. Non fermarti. Accompagna correttamente il calo di intensità. 5, 4, 3, 2, 1. Respirazione. Abbiamo terminato. Ora gambe divaricate e respira profondamente. Ispira dal naso mentre porti le braccia su ed ispira dalla bocca mentre porti le braccia giù. Complimenti. Questo allenamento è veramente intenso. Sentiti orgogliosa. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Il tuo performance cardio killer è terminato. Non ce la facevo io. È stato un incubo. Non ce la facevo io. Soprattutto. No ce la facevo io. Grazie a tutti.